e all'assessore patrimonio di organizzare entro la primavera prossima un momento di confronto pubblico ovvero non solo se fa il punto della situazione ma si dà un contributo anche più di dettaglio rispetto a come potrebbe essere uno spazio come questo perché le idee ci sono, le persone competenti a trattare potrebbe essere invece al momento che si fa il passo avanti potrebbe essere un processo aperto noi speriamo che sia possibile